ciao sono andato di nuovo da tiger perché sto ancora cercando dello slime verde e non l'ho trovato però ho trovato questo al suo posto che è pure meglio glowing slime e slime fosforescente in un piccolo contenitore di plastica che sembra un barile di rifiuti tossici è uno spettacolo sul pacchetto nient'altro che qualche brutto disegno perciò diamo un'occhiata al barile vero e proprio eccolo qui è figo non c'è niente da dire proprio bello però vogliamo vedere un po come è fatto questo slime allora apriamolo ed è duro un po' duro da aprire si bisogna infilarci le unghie dentro ok schifo ok che dire come consistenza è più o meno la stessa cosa dell'altro slime che ho comprato da tiger quindi sembra umido toccarsi sembra bagnato ma lascia le dita asciutte fuoriesce lentamente e colla lentamente fuori dal barattolo non è appiccicoso sembra liquido però possiamo ancora prenderlo tutto in un pezzo e rimetterlo a posto nel suo barattolino pronti per giocarci una prossima volta quindi niente male non è niente male non è appiccicoso non lascia né macchie né detriti sulla superficie perciò dire che è proprio come lo vorremmo ma adesso vogliamo sapere se brilla veramente allora dobbiamo sapere una cosa prima questo tipo di giocattolo è fatto dissolvendo sciogliendo una polvere fosforescente dentro uno slime trasparente quindi non potevano metterci troppa polvere dentro altrimenti avrebbe alterato la sua consistenza non sembrerebbe slime sembrerebbe più che altro purè di patate e non è quello che volevano e non è quello che vogliamo noi quindi dobbiamo aspettarci che questo slime non brilli quanto un giocattolo di plastica fosforescente ok però che dire mettiamolo alla prova vediamo un po quindi adesso gli facciamo prendere tutta la luce che possiamo e poi spegniamo le luci ok mi aiuto anche con questa torcia qui che bella potente e ho già provato con i miei giocattoli fosforescenti che ricarica parecchio spegniamo una lampada via spegniamo l'altra lampada e adesso via anche la torcia no ma quanto è bello questo slime è fichissimo con queste venature fosforescenti è uno spettacolo troppo bello mi piace troppo non so sembra roba aliena saltata fuori da chissà quale scenaglio schifoso la carico ancora un po bello mi piace direi che questo slime è perfetto per il mio vecchio homer simpson della mattel dai homer come minimo un po di protezione oppure direi che sarà benissimo con un pomodoro assassino sempre della mattel e lo scienziato pazzo il dottor gangrino ma forse la combinazione migliore è quella con un fantasma fosforescente di scubidoo eccolo qui che faccio adesso li carico tutti gli faccio prendere un po di luce e dopo li vediamo di nuovo al buio quindi tolgo la prima lampada via tolgo la seconda lampada via e via la torcia è stupendo beh questo è tutto lo slime fosforescente dei negozi tiger che dire con un euro mi sono portato a casa un bel po di divertimento allora questo affare ciao